Chiaramente occorre attendere quali saranno le decisioni e le determinazioni delle autorità competenti in materia sportiva. Nel rispetto delle mie competenze e del mio dovere di sindaco, ovviamente, fermo restando che non è una funzione specifica, sto monitorando la situazione nell'interlocuzione istituzionale pronto ovviamente a fare la mia parte, ma ovviamente a non poter andare oltre quello che spetta ad un sindaco perché le problematiche sono diverse. Ha sentito di recente l'ex presidente Iachini o i fratelli Ciaccia in tal senso? Non ho sentito assolutamente i fratelli Ciaccia, il presidente Iachini sia nella sua qualità di ex presidente, che comunque si trova ancora in una fase da gestire nel passaggio societario che al momento è subiudice, diciamo così come sappiamo, ma lo sento anche come gestore dell'impianto. Ci saranno novità per il PEF? Come abbiamo detto anche in Consiglio Comunale qualche settimana fa, non si è fermi, non c'è una situazione di stallo, c'è una situazione che si è rallentata, legata ad una serie di verifiche che sono state chieste dal Consiglio Comunale e dalla Commissione, la nostra avvocatura ha recentemente completato la predisposizione alla redazione del parere che la stessa Commissione aveva richiesto, quindi si tornerà in Commissione in modo tale che serenamente, fatti tutti gli approfondimenti del caso, si procederà ovviamente a consentire al Consiglio Comunale di assumere le sue determinazioni, non nel rispetto prevalente dell'interesse prevalente pubblico, ma anche assolutamente nel rispetto del proponente, del privato che è in attesa ovviamente di conoscere quale sarà la determinazione del Consiglio, lo faremo con la giusta rapidità, ma con un'attività che deve essere fatta per bene, con tutti gli approfondimenti del caso che consentano serenamente al Consiglio Comunale di decidere su questa scelta, dove è chiaro anche queste vicende che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, seppur siano decisamente separate e comunque in un certo qual modo nell'opinione pubblica e anche nelle valutazioni del decisore possono in un certo qual modo anche incidere quantomeno nelle valutazioni che ogni singolo consigliere potrà fare.